Ciao a tutti, sono Deborah Novellino, ho 18 anni e vengo da Taranto. Però in questo momento della mia vita mi ritrovo a Bari, perché gioco nella squadra di calcio femminile Le Pink. Il mio sogno più grande è ambire alla Nazione Le Maggiore, con il numero 3 da terzino, per difendere i colori della mia nazione. Però in questo momento devo far gol e quindi mi serve un vostro assist. Votatemi molti, un bacio grande a tutti quanti!